Il Comune di Campania ha partecipato all'avviso pubblico per l'aggiornamento del piano triennale di edilizia scolastica 2018-2020 della Regione Campania, con il progetto che prevede la realizzazione di una palestra e di un'area attrezzata all'esterno della sagoma esistente dell'Istituto Comprensivo Palatucci. Il progetto dell'importo pari ad un milione e mezzo di euro è stato istruito positivamente ed incluso negli interventi da finanziare. Nella giornata di ieri, inoltre, il sindaco Roberto Monaco ha comunicato che la Regione ha liberato risorse per la realizzazione di opere pubbliche nel Comune di Campania per un totale di 147 mila euro.